Buonasera ragazzi, questa volta devo ammettere non c'è nessuna correlazione ve lo dico già e vi spiego anche il perché Gigi D'Alessio, buon di quella roba lì durante il suo... tante costrette a fermarsi e molti avranno ringraziato qua non c'è nessuna, per me avevano sbagliato cantante e appena ha iniziato a suonare Gigi D'Alessio è normale che si siano sentite male delle persone anche io se andavo a sentire i Dire Streets e poi cantava Gigi D'Alessio mi sarei sentito male anch'io quindi ragazzi non c'entra niente la correlazione in questo caso spero che la mia ironia l'abbiate capita se no fate Vobis